Criminalità, spaccio di droga, furti in casa, la prostituzione. Le città italiane sono sotto assedio e anche Parma non sfugge, purtroppo alla regola. Temi al centro della puntata di questa sera di Parma Europa in onda in diretta alle 21 con Fabio Rainieri della Lega Nord, Marco Bosi dei Cinque Stelle, Nicola Dall'Oglio del PD, Gian Paolo Lavaggetto di Autonomia e Territorio. Cominceremo dai fatti di mercoledì scorso con quell'accoltellamento in Galleria Bassa dei Magnani a pochi metri da Piazza Garibaldi, se non c'è scappato il morto è stato un miracolo. Fatti drammatici non da periferia suburbana ma accaduti in un punto centrale della città che di fatto è zona franca, niente videosorveglianza, controlli sporadici delle forze e dell'ordine, baby gang che imperversano e gli allarmi di residenti e commercianti rimasti inascoltati per anni. Ma non c'è solo questo, dai quartieri cittadini la gente segnala continue situazioni di degrado e gli spacciatori di droga che imperversano dal quadrante di Viale Piacenza al San Leonardo fino all'oltre torrente. Altro tema, quello dei furti in abitazione. Non si tratta più di topi d'appartamento timorosi che in casa ci sia qualcuno. Qui ci sono bande organizzate che colpiscono senza alcun timore e allora ecco il dibattito sulla legittima difesa esploso giorni fa con l'uccisione di un ladro da parte di un pensionato in provincia di Milano. E così c'è chi invoca pene molto più severe nei confronti di quelli che ormai impropriamente continuano ad essere chiamati topi d'appartamento, ma che sono invece soggetti ad altissimo indice di crudeltà, individui disposti anche ad ammazzare e dinanzi ai quali anche il legislatore dovrebbe rimodulare i parametri che disciplinano la legittima difesa. Obiettivo tutelare chi si difende da una rapina e mettere in galera chi la rapina la compie e non viceversa. Tutti i temi sui quali la politica inevitabilmente si divide dibattito questa sera alle 21 in diretta a Parma Europa.